Allora, chiamo tutti i giorni a Caspia a sapere come sta, chiamo ogni tanto per non disturbare il loro lavoro, vado a trovarla portando il cibo e i giochi o vado a trovarla una sola volta a portare tutti gli amici. Scegliete. Vado a trovarla? No, no. Non è esatto. La seconda, la seconda. È giusto perché non interrompiamo il lavoro del cassa. Ogni tanto va bene. Le altre invece, e tutti i giorni no, perché sennò chi sta curando altri uccelli si continua a rispondere sempre alla stessa persona, dopo magari l'altro uccello che sta curando non ha un'altra memoria. E poi cosa faccio? Guardiamo il timino. Questa è una civetta. Questa è una civetta liberata. Perché è pronta per esaurire. Perché è pronta per esaurire. Qui c'è solo e lo sta liberando.